È una rassegna di concerti rivolta ai pazienti, alle loro famiglie e agli operatori sanitari organizzata dall'azienda Ospedale Riuniti Marche Nord, dall'associazione Agimus Fano Marche e dal Rotali Crab di Fano. Saranno otto gli appuntamenti che si articoleranno nel corso dell'intero anno sia all'ospedale Santa Croce che al San Salvatore di Pesaro. Si è partiti proprio dal presidio di Fano oggi pomeriggio con il giovane ma affermato chitarrista Simone Salvatori che dopo il concerto in ospedale aprirà questa sera alle 21 la stagione concertistica al Teatro della Fortuna, composta a sua volta da 11 serate di musica elettronica, classica, brani francesi, orientali. Ci sarà un omaggio ai grandi interpreti del jazz e i protagonisti spaziano da giovani talenti, anche locali, al soprano Katia Ricciarelli. Inoltre a queste iniziative si andranno ad aggiungere 5 concerti all'interno del carcere di Fossombrone. Certo, molto ricco come programma, molto impegnativo per chi organizza, però può contare sul sostegno del comune di Fano, nella persona dell'assessore Marchegiani e nel Rotary Club di Fano che condivide gli obiettivi dell'Agimus, quali service e quali la diffusione della musica in ogni dove, nella cittadinanza e nei luoghi di sofferenza. Inauguriamo la seconda stagione con un chitarrista, Simone Salvatori, che è un giovane talento di circa 20 anni, ha fermatosi in Italia come concertista raffinato, che presenterà un repertorio di musica spagnola e latinoamericana per chitarra sola. Nel senso di situazione è perché Agimus è un'associazione nata nel 49 con scopi molto simili a quelli della nostra amministrazione, il coinvolgimento dei giovani e in paesi anche lontani con cui è bene stabilire un rapporto costruttivo e la cultura può aiutare in questo, ma anche un viaggio nel tempo della musica, quindi giovani talenti, ma anche la punta di Katia Ricciarelli che c'è un luogo della sua presenza in questa città.